Il settore turistico in Molise proprio non decolla e il presidente della giunta regionale Paolo Frattura annuncia infatti nuovi investimenti e auspica una sinergia tra pubblico e privato per quanto attiene alla creazione e gestione delle infrastrutture ricettive. Vediamo. La recente presentazione del rapporto annuale di Banca Italia fotografa una complessiva crescita del PIL molisano contenuta nei valori assoluti ma comunque incoraggiante. Dato fortemente negativo invece quello relativo al settore turismo praticamente non pervenuto in termini di contributo all'economia regionale. Il dato di fondo sempre quello legato cioè al ridotto afflusso di turisti che visitano la regione eppure in Molise attrattive risorse storico, artistico e culturale ci sono. Quella che certamente è insufficiente è la dotazione delle infrastrutture ricettive in grado di accogliere adeguatamente flussi turistici che dovrebbero come detto necessariamente aumentare. Un progetto di medio-lungo periodo potrebbe essere attuato grazie ad un'azione sinergica tra pubblico e privato. La regione farà la sua parte fa sapere il governatore Frattura. Devo dire il rapporto di Banca d'Italia ci presenta un Molise in netta ripresa, una ripresa consolidata che conferma il trend di crescita rispetto del 2016 rispetto al 2015 con ancora una casella in difficoltà che è quella del turismo. Devo dire che la regione con una strategia di medio-lungo termine ha inteso investire per promuovere turismo, cultura e sport in questa regione 100 milioni a valere sulle risorse del patto per il Molise. I primi bandi sono partiti. Dunque gli investimenti pubblici dovrebbero intercettare un impegno, uno sforzo imprenditoriale privato. Il presidente della giunta regionale parla di... La diversa attenzione del tessuto imprenditoriale rispetto alle opportunità che questa regione offre è dopo l'iniziativa imprenditoriale che riparte tante presenze.